Ciao a tutti, oggi ci immergeremo insieme nelle nuove anticipazioni di Terra Amara, che andranno in onda dal 24 al 30 luglio. In questa intensa serie di episodi l'atmosfera raggiungerà livelli estremi, regalandoci colpi di scena senza tregua. La vicenda si concentra su Adnan, il giovane figlio di Demir, che finisce coinvolto in un tragico incidente. Accidentalmente si spara con la pistola di suo padre, finendo in gravi condizioni. Questo evento sarà la scintilla di una catena di avvenimenti incredibili, che coinvolgeranno tutti i personaggi. Ilmaz, convinto che Unkar abbia tradito il loro segreto e detto a Demir la verità, decide inizialmente di vendicarsi, uccidendo Unkar, ma poi si pente e la salva. Nel frattempo Fekeli è preso dal panico. Unkar cerca di riunire Adnan e Leila, che sono ospiti a casa di Sevda, sperando di riconciliare la famiglia. Proprio Unkar suggerisce a Demir di porre fine alla faida familiare e tornare a vivere nella tenuta. Zuleya e Ilmaz, preoccupati per la sicurezza dei loro figli, decidono di non fuggire e di restare a Kukurova, ma optano per il divorzio dai rispettivi coniugi. La richiesta di divorzio di Ilmaz a Mujgan viene rifiutata, poiché lei non vuol far vivere a Kerem ciò che ha vissuto come figlia di genitori separati. Anche la proposta di Zuleya a Demir viene respinta furiosamente. Nel frattempo Beice e Sermini iniziano a nutrire sospetti sempre più forti nei confronti di Fikret, mentre Mujgan sembra sempre più fiduciosa verso di lui, aprendo il suo cuore a questo misterioso uomo. Beice è diffidente e trova dei documenti nella camera di Fikret che svelano la sua vera identità. Demir organizza una festa per la circoncisione di Adnan, ma sia Zuleya che Unkar sono contrarie. Quando Ilmaz viene a sapere della festa, si confronta con Demir. Durante la discussione però Adnan prende accidentalmente la pistola lasciata incustodita da suo padre e si ferisce. Il bambino viene portato immediatamente in ospedale e necessita di un'operazione. Zuleya, temendo che Mujgan possa nuocere ad Adnan, le vieta di entrare in sala operatoria. Tutti sono preoccupati per la salute del piccolo e pregano per la sua pronta guarigione. E con questo concludo le anticipazioni. Cosa ne pensate? Scrivetemi nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace ed iscrivetevi al canale per non perdere le future anticipazioni di Terra Amara. A presto! Ciao!